Lo stile di Mozart è perfetto. Una delle sue grandi qualità è l'incredibile proporzione tra l'ispirazione e la tecnica compositiva, fra ciò che gli nasce nel cuore e il modo con cui la mente poi lo elabora. Lui non è che inventa forme, né stravolge quelle esistenti. È solo che con genialità interpreta il fiume di musica che ha portato nei secoli fino a lui, con grazia e semplicità. Wolfi? Originali? Sì, lui non fa mai copie. Questi... sono originali? Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.